Va bene così. Bene, Assessore Paita, benvenuta fra di noi. Sì, questa mattina la mettiamo alla prova, vediamo come se la cava al di fuori del suo ambito di lavoro normale. Spero di essere all'altezza di una realtà così efficiente e bella come quella dei cantieri San Lorenzo. Ne siamo convinti, comunque a fine giornata vedremo. Dei finire questi materiali dove andarli mettere, dove li preferisce. Magari appunto dei tessuti di questo genere. Magari appunto dei tessuti di questo genere. Allora, facciamo i paralleli dei soffitti. Allora, facciamo i paralleli dei soffitti. Assessore Paita l'ho osservata nella giornata, è stata bravissima sia nella parte di lavoro di fuori. Siamo in un ufficio che in quella in officina, anche senza training specifico. Quindi volesse poi occuparsi di barche, potremmo considerare la sua camminiatura. Prenderò in considerazione l'offerta. Siete la Sartoria della Nautica, capitani di impresa, eccellenza per l'industria italiana e per il territorio della Liguria. Siete la Sartoria della Nautica.